Siamo con Elena Bruni di Confindustria e parliamo di certificati bianchi, quindi qual è il rapporto tra i certificati bianchi e l'industria, quali sono i vantaggi che appunto il settore può trarne? Allora, senz'altro l'efficienza energetica viene considerata da sempre da Confindustria come uno degli elementi più importanti degli obiettivi sfidanti che l'Europa pone ai propri Stati membri. Sappiamo che la riduzione di emissioni col conseguente poi richiesta di raggiungamenti di maggiori target nell'utilizzo di fonti rinnovabili e nel campo dell'efficienza energetica costituiscono da sempre un tema di importanza fondamentale per le nostre imprese. Confindustria attraverso dei rapporti che ha sviluppato con cadenza biennale ha voluto sottolineare come quelli che sono sicuramente degli obiettivi sfidanti ma conseguentemente anche degli oneri necessari e dei costi per le aziende possono costituire anche però un volano di crescita per le aziende stesse in una duplice funzione. Da un lato l'efficienza energetica sicuramente costituisce per le aziende che percorrono questa strada di efficientamento un elemento di miglioramento del proprio processo produttivo. Questo significa non soltanto migliorare il ciclo di produzione ma significa anche consumare meno energia e consumarla meglio. Lì dove i costi dell'energia costituiscono ancora oggi per le aziende un elemento primario nell'ambito produttivo come costo per dei deficit e per un gap di costo rispetto al resto dell'Europa. Nello stesso tempo però non dimentichiamo che l'industria italiana è un'industria che ha alti livelli di produzione di beni ad alta efficienza. Nel panorama europeo siamo ancora il secondo paese in Europa per produzione di beni ad alta efficienza. In questo senso un volano di crescita e di guadagno e di visibilità e competitività per le nostre aziende. In questo ambito ovviamente il certificato bianco, i certificati bianchi come strumento di incentivazione per le aziende a un miglioramento e un efficientamento è assolutamente uno strumento per Confindustria imprescindibile, è uno strumento decennale che da sempre seguiamo con grande interesse. Abbiamo partecipato sempre anche alle consultazioni poste per cercare di creare un quadro normativo certo e stabile. Sicuramente negli ultimi anni magari alcuni cambiamenti hanno creato nella compagine industriale un attimo di smarrimento ma riteniamo ancora che sia un importante strumento per le aziende e non dimentichiamo che comunque a livello europeo l'Italia con lo strumento dei certificati bianchi viene considerata come una best practice europea e quindi come uno sviluppo di uno strumento imprescindibile per la crescita e il miglioramento delle aziende.